questo video continuiamo a dare le nostre definizioni di statistica poi faremo anche degli esercizi un po più approfonditi sui concetti che appunto vediamo parliamo in questo video delle variabili casuali consideriamo tutti i possibili valori delle variabili e li trasformiamo in numeri che chiamiamo e1 e2 oppure x1 x2 eccetera ad ogni valore associamo una funzione di probabilità quindi p di e1 p di e2 p di e3 che sono i corrispondenti di e1 e2 e3 le variabili casuali possiamo vedere che sono di due tipi variabili discrete oppure variabili continue e guardiamo adesso la differenza tra questi due tipi di variabile entrambe variabile discrete variabile continua hanno una distribuzione x1 xn che le rappresenta e possono essere rappresentate tramite la mia distribuzione la variabile discreta ha un numero finito di elementi mentre la variabile continua ha un numero infinito di elementi oppure si dice anche finito non numerabile la variabile discreta si rappresenta tramite una funzione che è detta funzione di probabilità che ha una proprietà imprescindibile che è che la sommatoria di tutte le probabilità dei miei xi deve essere uguale a 1 cosa vuol dire questa scritta la sommatoria da 1 a n da 1 a n di tutti i p di deve essere uguale a 1 vuol dire che quando applico la mia funzione di probabilità alla mia distribuzione x1 x2 xn quindi avrò p applicato alla variabile x1 più perché sommatorio vuol dire un più più la funzione p applicata alla variabile x2 più la funzione p applicata alla variabile x3 fino a quando il mio i è uguale a n quindi fino a p di xn sommando tutti questi valori il risultato deve essere uguale a 1 comunque è una scrittura complicata ma con degli esempi vi verrà subito immediata mentre per la variabile le variabili continue abbiamo che si rappresentano con una funzione di densità godono anche questi di una proprietà fondamentale che ci dice che l'integrale della funzione di densità è uguale a 1 ossia l'integrale per i che va da 1 a n di tutte le mie f di xi in dx deve essere uguale a 1 questo cosa vuol dire? vedremo che vuol dire che l'area sottesa dalla curva formata dalla mia funzione di densità applicata alla distribuzione xi l'area deve valere proprio 1 nello spazio per i che va da 1 a n queste sono le differenze tra variabili discrete e variabili continue quelle che avete visto finora diciamo che sono variabili discrete e anche gli esercizi che faremo maggiormente riguardano le variabili discrete però vedremo anche qualcosa sulle variabili continue poi ci sono degli indici che ci aiutano a studiare meglio la nostra distribuzione il primo indice che incontriamo è il valore medio che è il più utilizzato anche ed è dato dalla somma di prodotti dei valori per le rispettive probabilità quindi il mio valore medio lo posso calcolare sempre tramite la sommatoria degli xi per pdi questo cosa vuol dire che io faccio x1 per la funzione p applicata alla variabile x1 più x2 per la funzione p applicata alla variabile x2 eccetera fino ad arrivare ad n quindi la sommatoria ricordatevi che vuol dire sempre la somma dei valori che seguono in questo caso sono due valori a un'espressione che deve essere sommata più volte e viene identificata appunto dal mio indice i un altro indice interessante oltre al valore medio è la varianza che è il valore medio del quadrato degli scarti ora qui vi faccio vedere tutta la formula e come si può trasformare questa formula da un tipo di formula a un'altra questo perché voglio farvi vedere proprio tutti i passaggi però diciamo che voi dovete ricordarvi appunto che il valore medio del quadrato degli scarti perché la mia varianza si rappresenta con sigma al quadrato oppure var di x e per calcolarla dovete calcolare il valore medio m applicato alla distribuzione x meno il quadrato della mia mi della mia mi che rappresenta il quadrato degli scarti ora questa scrittura qua la possiamo scrivere anche sempre riportando il simbolo di sommatoria degli xi al quadrato meno 2 mi per xi più mi al quadrato per le p di i cosa ho fatto qui? allora io qui non sono altro che andata che a sviluppare il quadrato il quadrato della mia distribuzione e quindi io so che il valore medio lo posso calcolare con le mie xi che sono tutto questo tutto quello che c'è qua dentro per le p di i ora posso suddividere i diversi valori suddividendo le diverse parti della somma algebrica quindi prendo la sommatoria del primo valore che è x di i al quadrato però so che è moltiplicato per p di quindi xi dal quadrato per p di meno 2 mi 2 mi è una costante quindi la posso tirar fuori 2 mi per la sommatoria per i che va da 1 a n degli xi per p di ma i xi per p di non sono la sommatoria degli xi per p di non sono altro che l'abbiamo visto qui che è il mio mi e quindi qua sarà 2 mi per mi più mi alla seconda per la sommatoria che va da 1 a n di che cosa dei p di i ma la sommatoria dei p di i per i che va da 1 a n abbiamo visto come proprietà fondamentale deve essere uguale a 1 quindi questa parte qui la possiamo non considerare ora la prima parte la sommatoria di i xi alla seconda per p di i non è altro che il valore medio degli xi al quadrato quindi della mia distribuzione al quadrato meno 2 mi per mi che fa mi al quadrato più mi al quadrato qui possiamo fare la somma algebrica tra i due valori e abbiamo che la mia varianza la possiamo scrivere come m per tutta la distribuzione al quadrato meno mi alla seconda mi al quadrato e questo sarà un altro modo per calcolare la varianza che ci può essere molto utile ultimo indice che andiamo a vedere è la divisione standard o scarto quadratico medio che non è altro che la radice quadrata della varianza allora qui lo possiamo rappresentare quindi se qua è rho al quadrato qui sarà rho e abbiamo detto che è la radice quadrata della varianza però possiamo anche estendere la mia funzione e scriverla come la sommatoria per i che va da 1 a n degli xi meno m al quadrato per p di tutto fratto n allora questo è un altro modo di scriverlo quindi lo scarto quadratico medio è la media quadratica degli scarti dei valori degli xi della media aritmetica quindi cosa abbiamo fatto? abbiamo considerato gli scarti dei valori della media aritmetica e abbiamo voluto valutare la maggiore o minore dispersione dei valori e questo ci cerca proprio con lo scarto con il valore medio degli scarti mentre il quadrato dello scarto quadratico medio è la varianza anche per questo vedremo degli esercizi quindi non preoccupatevi se non avete capito tutto se il video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i video successivi e se avete dei dubbi oppure da proporre degli argomenti o degli esercizi potete scriverlo nei commenti oppure mandare una mail a dispense di matematica chiocciolagmail.com iscrivetevi al canale